Buonasera mister, complimenti per questo debutto al torneo, grande intensità nella partita, due parole su come l'hai vista te la panchina. Hai detto bene, una partita di un'intensità elevatissima e anche con una buona qualità, tutte e due le squadre hanno espresso a tratti una qualità importante, penso sia stato un piacere per chi ha assistito a questa partita, vedere cosa i ragazzi in campo sono riusciti a mettere, quindi immaginavamo dal flamenco queste caratteristiche, questa qualità, noi l'abbiamo interpretata correttamente, i ragazzi sono stati molto bravi, ma sono stati bravi veramente tutti in campo, quindi un avvio molto positivo, penso molto bello anche per lo spirito del torneo. E qual è il vostro obiettivo per il continuo del torneo? Il nostro obiettivo è vedere questo in campo, vedere una crescita costante, confrontarsi con realtà come loro, di altri continenti, avremo l'occasione di giocare con la squadra giapponese, quindi per i ragazzi sono probabilmente passaggi fondamentali per quella che è la loro crescita, per quello che poi è un obiettivo in una società importante come la Roma, che è quello di creare calciatori, partecipare a manifestazioni come queste, ti l'ho detto, abbiamo parlato, è un privilegio importante e i privilegi vanno onorati. Oggi la cosa bella è che abbiamo onorato il privilegio di giocare a una manifestazione come questa, quindi a tutti i ragazzi vanno i miei complimenti, i complimenti penso di tutti. Grazie a tutti.